Il tenore di solito incomincia a chiudere i suoni o a raccogliere per meglio dire, verso il fa, fa, diesis e sol. È un suono forzato, è un suono innaturale, è un suono al quale il giovane difficilmente crede. Però è un suono che produce nella voce, tecnicamente parlando, anatomicamente parlando, produce nella voce un riposo delle corde vocali che saranno poi pronte, quando la voce sale a note più alte, a vibrare con più elasticità e quindi a prendere gli acuti con una certa facilità, gli acuti che vanno dal si bemolle fino al si naturale e al do, che sono le note più impervie per un tenore. Dico che nessuno ci crede perché nella gola succede un procedimento tale che sembra un suono soffocato a chi lo fa. Di fuori invece è un suono che ha una certa nobiltà, che dà alla voce una caratteristica di cantante serio, e per cantante serio intendo un cantante di musica seria. È difficile, è difficile crederci, però i risultati sono sempre piuttosto notevoli perché è una voce, anche se è piccola, ma che incomincia a raccogliere questi suoni in partenza, avrà sempre uno sviluppo naturale, sarà sempre un passo avanti l'altro che farà per tutta la carriera, basta che logicamente continui a seguire questa tecnica vocale. Chi non fa questo, chi incomincia ad aprire, può essere una cosa anche più eccitante, diciamo così, il sentire una voce aperta in certi suoni di passaggio. Però se questa dà un'eccezione che dovrebbe essere, diventa una regola generale, credo sicuramente che la voce, anche la più bella, la più meravigliosa, dopo un po' di tempo, finisca per logorarsi, finisca per sfibrarsi e proprio per il discorso che abbiamo fatto prima, cioè quello delle corde vocali che riposano, chiudendo i suoni e aprendoli invece, le corde si sfibrano e cominciano a arrivare con grande difficoltà, prima a sì naturale, poi a sì bemolle, poi a là e soprattutto non riescono a incominciare una frase, per esempio come già e da malina, riposate. Quindi quando la voce comincia a stancarsi si dice voce vecchia anche di un ragazzo di 20 anni. Per tutti, questa è una legge unica, che la tecnica, secondo me, con qualche variante, secondo anche i problemi che presenta ogni cantante, è unica, è una sola, è Luciano. Tu sei d'accordo? Sì, sì, credo di sì anch'io, però logicamente parlando di donne devi essere tu a dirlo, perché io posso sentire solo i risultati, si sente il pubblico, quando il pubblico ad una nota fa, vuol dire che c'è qualcosa che non va, lui non lo sa il motivo, un tecnico può anche sapere il motivo. Sì, è naturale. Noi possiamo, analizzandolo, sappiamo il perché, per esempio adesso un dorm, 90 casi su 100, io ti so dire dalla nota precedente, se il tenore farà bene il signor naturale. Questo anch'io. Inmediatamente, perché se fino lì è arrivato con un certo controllo del raccolto, è facile che lo faccia bene, e viceversa è facile che lo stecchio faccia un brutto suono. No, no.